Al Campania Teatro Festival incanta l'UBU di Bob Wilson, una critica contro la follia del potere messa in scena dal grande regista americano. Grande emozione per l'UBU del regista statunitense Bob Wilson in scena anche questa sera alla Regia di Portici per il Campania Teatro Festival. L'inviata Anna Teresa Damiano. Si commuove Bob Wilson, 82 anni, gigante dell'architettura teatrale, per l'interminabile applauso al suo UBU in scena per il Campania Teatro Festival al Galoppatoio della Regia di Portici. In un mondo di carta straccia, attori statue, ombre che danzano, tiroettano, inscenano, beffardi de filet. Dalla dirompente piece di Jarry del 1896 contro la follia del potere, una performance che è una lezione di regia teatrale. Il surrealismo da Jarry all'arte di Miromi ha mostrato la dimensione paradossale e assurda dell'esistenza. Faccio teatro per poter ridere, mettere distanze, vedere la luce anche nelle situazioni più tragiche dell'esistenza. La congiura del Capitano dei Dragoni contro Re Venceslao è una gara sportiva, la conquista del trono una pantomima. Danzano, lenti o frenetici, vincitori e vinti, burattinai e burattini, fino alla resurrezione finale. UBU è fatto a pezzi per lasciare a ognuno la possibilità di costruirsi il proprio spettacolo e porsi domande. Il teatro non è un sermone, non un luogo dove puntare il dito, ma dove pensare e sognare, come nella potente immagine di Martin Luther King che dice Io ho un sogno alla folla. Ai giovani drammaturghi e registi dico il teatro è unico perché mette accanto sedute persone diversissime per idee e convinzioni. Tenete la porta aperta. Keep the door open.